La Luna Rossa è un po' come il portabandiere italiana della vela, è come se fosse la nazionale della vela, quindi noi siamo tutti tifosi e partecipi, ma ho visto l'accoglienza che ha avuto l'anno scorso Luna Rossa con il lungomare pieno di centinaia di migliaia di persone che hanno visto la gara, quindi mi pare che c'è il tifo dei napoletani e chiaramente tutto su Luna Rossa, però siamo sportivi, vinca il migliore. Grazie a tutti.